Quando è entrato nella mafia? La mafia non esiste. Cosa nostra si chiama. Ma c'è nome, Buscetta? Dottor Falcon, noi dobbiamo decidere solo una cosa. Chi deve morire prima, lei o io? Nessuno si immaginava che lei collaborasse con un giudice, lo sta facendo. Io sono stato e resto un uomo d'onore. Sono loro che hanno tradito gli ideali di cosa nostra. E questo, io non mi considero un pentito. Ho delle documentazioni che posso trovare che Buscetta è un bugiato. Io rinnego questo nome, io rinnego Tommaso Buscetta e non dite più che mio fratello. Chi non si è uno spazio per qualsiasi? Sì, non chiedo io, sono in Brasile. Che ti ricordo che hai baciato i miei figli, hai lasciato che li ammazzassero. Non è troppo, la sei sale! Non è troppo! Masino, pensa nos meninos. Você temi falà. La famiglia, per me, è sacra. Ma per me è vincibile. Non farò mano a mano. Avuto l'inizio avrà una fine. La famiglia, per me è vincibile.